Stando sui temi culturali, come città metropolitana qualche giorno fa voi avete fatto uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro a favore del San Carlo. Sì, diciamo che è successa una cosa molto importante l'altra volta che è stata sottolineata, ma secondo me dobbiamo continuare a sottolinearla sempre di più. Grazie a un'operazione amministrativa, giuridica, istituzionale e politica noi siamo riusciti ad ottenere lo sblocco delle somme vincolate di avanzo, cioè di cassa che non potevamo utilizzare da parte della città metropolitana. Parliamo di una somma che oscilla tra i 400 e i 450 milioni di euro. Questo è avvenuto grazie a una grande operazione che ha trovato poi il sostegno nel governo, nel mille proroghe e in una interpretazione importante del Ministero del Sviluppo Economico che recepisce un'indicazione della Corte Costituzionale. Questa è una battaglia molto napoletana, molto che ho condotto personalmente ed è un modo concreto di prendere delle risorse che non sono europee, come qualcuno certe volte si vende proprie, mi riferisco al Presidente della Regione, che vende risorse proprie, vende risorse europee come se fossero risorse proprie. Qua parliamo di risorse che invece tu recuperi in modo isperato e che metti nella disponibilità di 92 comuni per progetti chiaramente che rientrano nelle competenze della città metropolitana, dissesso idrogeologico, ambiente, infrastrutture, trasporti, strade, sviluppo e quindi cultura. E l'altro giorno con una deliberazione importante abbiamo salvato e rilanciato il corpo di ballo del San Carlo che rischiava di chiudere proprio per problemi di bilancio e il soccorso della città metropolitana è stato decisivo e questo vuol dire quanto sia importante riuscire a rompere i vincoli normativi e finanziari che ci impedivano di spendere. Per la città metropolitana abbiamo vinto questa battaglia, adesso continuiamo a combattere per il Comune di Napoli, una battaglia ancora più complicata, però questo darà molto ossigeno perché pensate che cosa sono 450 milioni di euro per 92 comuni, per alcuni comuni che spesso magari non vedono un euro. Quindi questo è il piano strategico della città metropolitana, io ho approvato l'altro giorno la delibera del piano strategico, adesso va in Consiglio metropolitano, saranno coinvolte tutte le forze politiche, questa è un'altra cosa molto bella, cioè tutti coinvolti, quindi non è un'operazione verticistica, ci saranno tutti i gruppi politici, tutte le forze consigliari, tutti i sindaci e quindi tutti i territori. Una grande opzione strategica per i 3 milioni e mezzo di abitanti della città metropolitana e se noi utilizziamo sempre correttamente i fondi pubblici si può fare tanto e soprattutto però ricordiamo, ma questa è semplicemente una risposta a chi ogni tanto sento dire che fa battute utilizzando sempre come arma politica il denaro come se fosse il suo, che mentre questo è un denaro di tutti i 92 comuni, un denaro della città metropolitana, un denaro guadagnato, un denaro vinto, non si può continuare a dire che uno fa un certo uso del denaro pubblico come se fosse del proprio bilancio quando sono fondi europei, lo vorrei ricordare fino all'infinito, in Italia i fondi europei purtroppo non vanno direttamente alla città o per una piccolissima parte quando noi ce li andiamo a prendere direttamente, passano attraverso le regioni. Attraverso le regioni accade che molto spesso non vengono spese tutte le risorse e vengono restituite indietro come fa la regione Campania ma anche altre regioni, altre volte devi sentire ogni giorno la narrazione che c'è qualcuno che ha la cassa come se fosse sua e così dà da bere e mangiare agli assetati e agli affamati. Non funziona in questo modo, quindi l'informazione deve essere corretta. Fondi europei che grazie alla programmazione della regione, che poi se la regione è brava a spendere, un esame i primi a dare atto che se la regione li spende bene è un fatto positivo, ma sono fondi europei che arrivano tra l'altro molto in ritardo. Oggi stiamo spendendo, grazie alle lentezze delle regioni, i fondi che erano della programmazione 2007-2013. E stiamo, se non ricordo male, alla fine dell'anno del Signore 2018.